Ci sono molte domande dei nostri ascoltatori perché l'argomento è interessante è interessante e anche un argomento delicatissimo perché noi, voglio dire, noi qui stiamo suonando sul Titanic che praticamente siamo lì belli e l'iceberg l'abbiamo già preso e siamo lì che invece di preoccuparci di salire sulle scialuppe o comunque di riparare qualcosa e continuiamo a suonare e vabbè, facciamolo poi però ci sono un sacco di domande che ci fa il pubblico ma poi anche affermazioni prendiamo la prima di Giuseppe Giuseppe si firma con nome e cognome quindi merita sicuramente una risposta e comincia a dire dice beh ma state dicendo un po' di bagianate perché come potete immaginare diffondere la notizia il terremoto è stato generato dall'uomo come potete dire allora Giuseppe tu probabilmente ti sei perso qualcosa allora magari al mattino noi lo diciamo sempre di evitare alcolici traumi particolari prima di parlare cioè ragazzi ma che state ubriacati noi abbiamo semplicemente detto anzi il contrario abbiamo detto che ci sono persone parlamentari addirittura di paesi importanti confinanti con la Turchia che hanno portato in Parlamento un dibattito su questo tema affermando che che per loro è quasi sicuro che potrebbe essere avvenuta una cosa del genere e noi abbiamo detto che tecnicamente è possibile e che proprio perché anzi il contrario proprio perché tecnicamente è possibile è anche possibile tecnicamente verificare un'eventualità di questo genere e che se i paesi non si sono dotati degli strumenti necessari per capire se c'è qualche attacco esterno in questo senso sono dei polli come noi siamo stati polli a berci un virus è ormai quasi certamente accertato anche dal grande mainstream che è artificiale e ne siamo rimasti vittime perché perché anche i virus possono essere creati artificialmente e quindi se l'uomo può artificialmente creare armi di distruzione di massa dai terremoti alla bomba atomica ai virus quindi alle bombe chimiche ad altre cose noi dovremmo preoccuparci di creare un qualcosa per intanto comprendere se quelle armi sono state utilizzate e secondo per difenderci se questo non è stato fatto è chiaro che è colpa nostra questo abbiamo detto Giuseppe quindi la mattina magari che ne so non so ma la grappa evitiamola o comunque ascoltiamo bene e non non facciamo queste affermazioni però meritava una risposta poi c'è Carlo e questo facciamo rispondere ad Alessandro e a Vanni cominciando da Vanni visto che aveva concluso Alessandro prima che ci chiede la sinistra perché perché la sinistra che noi avevamo imparato negli anni 60 70 anche forse i primi 80 la sinistra che dovrebbe stare dalla parte del lavoratore dalla parte della pace dalla parte di questa appoggia queste guerre degli Stati Uniti e dell'Inghilterra eccetera eccetera dimanda allora vedo che già Alessandro sorride ma prima Vanni poi Alessandro cerchiamo di dare una risposta magari ecco breve un po' tutti e due così poi andiamo ad altre domande prego io passo la palla ad Alessandro perché secondo me è proprio il campo suo la risposta a questo io la sinistra la capisco poco da tanto tempo Alessandro vedi io invece la conisca la conosco bene dal di dentro perché sono stato membro prima della sinistra extra parlamentare poi del manifesto BDUP poi sono entrato nel PC di cui sono stato dirigente perché sono stato membro del comitato federale della federazione di Torino e soprattutto membro del comitato centrale della FIGC quando segretario era Massimo D'Alema quindi poi socialista quindi conosco bene la sinistra allora io amo sempre partire dalla storia e quindi la storia della sinistra coincide salvo la storia della sinistra extra parlamentare eccetera comunque di fenomeni importanti ma marginali con la storia del grande partito comunista di Gramsci Togliatti Longo Berlinguer per capire la storia del partito comunista bisogna capire dove nasce allora dopo gli anni della clandestinità dopo la morte di Gramsci dopo il partito comunista di Bordiga di Scoccimaro quando Togliatti che era il migliore era il più intelligente di tutti andò a Mosca e diventò uomo di Stalin fondamentalmente per un lungo periodo dopo la divisione del mondo a Yalta tra Oriente e Occidente tra dominio di Stalin e quello dell'Italia era deciso che l'Italia avrebbe dovuto rimanere nel campo nato quindi Togliatti fu incaricato di venire in Italia per fare questa delicata operazione di spendere gli entusiasmi dei partigiani rivoluzionari che volevano fare il socialismo il comunismo la rivoluzione e normalizzare la situazione in una consociazione tra democrazia cristiana Italia CIA Stati Uniti e Unione Sovietica Stalin partito comunista Togliatti Togliatti come arrivò fu immediatamente realista perché fece la svolta di Salerno dove disse che addirittura andava bene che rimanesse la monarchia dove fece l'amnistia per i delitti di tutti fascisti e partigiani fu presidente fu capo addirittura del ministero della giustizia per la normalizzazione ma Togliatti fu sempre consapevole che non si potevano superare certe soglie come fu consapevole che queste soglie non potevano essere limitate né da longo né neanche mai dopo da Berlinguer Berlinguer fu una persona molto simpatica e molto generosa ma che sapeva benissimo che l'eurocomunismo era semplicemente stare a fare il PC all'ombra della Nato quando è finito quando è caduto il muro di Berlino che cosa è successo? che ad un certo punto la democrazia cristiana e il partito comunista sono diventati inutili insignificanti Craxi pensava di beneficiarne ma pensò di essere tanto autonomo e da beneficiarne che venne mandato direttamente in esilio dal potere dell'anglosfera e infatti morì protetto dall'OLP in Tunisia dopo Sigonelle e dopo aver mostrato gradi di autonomia che in Italia non sono tollerabili capito? ma non erano tollerabili neanche quelli della politica di Mattei neanche quella della politica di Moro neanche quella della politica di Andreotti tu dici che Sigonella ha sostanzialmente condannato Craxi ma è una delle tante cose l'eccesso di autonomia io una volta ebbi modo nei miei ultimi anni di frequentazione del mondo democristiano attraverso Cosiga di conoscere Rumor che ad una cena forse perché aveva bevuto un po' disse parlando del caso di Moro a me è una cosa del genere non avrei mai potuto capitare perché io ho sempre saputo stare al mio posto cosa vuol dire vuol dire che ci sono delle soglie che in una colonia non possono essere superate capite allora cosa voglio dire quando è caduto il muro di Berlino quello che era il glorioso partito comunista ha subito un'oppa ostile cosa c'è uno ostile quando c'è uno che ti vuole comprare l'azienda come diceva il cinico Massimo D'Alema era già cinico quando eravamo giovani la ditta quando voleva comprare la ditta è venuta e l'ha comprata e quindi è stata comprata dal potere che oggi governa il mondo quindi il PC è stato completamente venduto quell'epoca oggi se lo contendono un vecchio burocrate comunista di Modena quel pelato cui hanno rifatto il look non mi ricordo come si chiama e quella ragazza gay fluida ecco è ridotto questo il glorioso partito comunista quindi scordatevi quella sinistra lì quella sinistra lì al massimo oggi può discutere se quando si fa il gay pride ci si mettono le penne in bocca ce le si mette nel sedere cioè questo è il massimo di libertà che viene concesso rispetto alla difesa dei diritti sociali perché i diritti sociali sono stati venduti e confusi con i cosiddetti diritti civili peccato che i cosiddetti diritti civili siano soltanto quelli del queer del transgender eccetera della droga libera eccetera eccetera allora cosa sarà la sinistra esiste un problema di sinistra e destra certo che esiste esiste un problema di giustizia sociale certo che esiste esiste un problema di difesa della pace dei diritti ma è totalmente orfano in questo momento e infatti quello spazio è stato occupato da quel poco di destra sociale che c'era nell'MSI e quindi Giorgia Meloni che oggi appare la migliore rede sia del partito comunista che della democrazia cristiana naturalmente stando saldamente ginuflessa all'idolo di Moloch dell'imperatore della massoneria anglofila punto altrimenti non potrebbe starci è chiaro farebbe la fine degli altri ma non potrebbe stare lì non ci sarebbe arrivata e non potrebbe stare lì non so neppure quanto lei ne sia soggettivamente consapevole credo che ne sia perfettamente consapevole perché non è stupida e perché siede sulla sedia che fu di Giorgio però io voglio ricordarvi una cosa perché l'Italia sono ammalati di provincialismo guardate che storie come queste riguardano anche paesi vicini a noi come la Jugoslavia guardate che chi come me ha bazzicato un po' per la Serbia sa che ormai i serbi sanno persino che Tito non era neppure Jugoslavo non era neppure Croato probabilmente era russo è un uomo che viene dal mondo dell'intelligence taliniana e che vende ad un certo punto comprato completamente dalla CIA per fare l'operazione dei paesi non allineati insieme a Nero in India se non si studia un po' di storia non si capisce niente ragazzi questo è il problema a me dispiace parlare di queste cose così a livello di pecoreccio invece che in un'aula universitaria però sono discorsi pericolosi tra l'altro perché è una storia che è meglio dimenticare è meglio che una storia che non venga conosciuta ma chi si occupa di storia della geopolitica queste cose le sa bene la nascita il distacco della Jugoslavia dal Cominform da cui discende poi la storia e poi quando si decise di sciolgere la Jugoslavia la ci sciolse evidentemente ma i serbi attuali che hanno conosciuto la storia della prima guerra mondiale le conoscono bene queste cose e anche della finzione di Tito capito e infatti quando però io considero Podgorica viene chiamata Tito Grade poi viene richiamata di nuovo Podgorica nel Montenegro dico soltanto che parlando già da un paese vicino dalla storia vera di un paese vicino a noi si capiscono queste cose noi non sappiamo né la storia dell'Iugoslavia né quella della Francia collaborazionista di Petain né quella dell'Italia ma ragazzi se non studiamo un po' di storia non capiremo mai finiremo come rumor che dice a me queste cose non vorrei mai ricordare perché sono stato al mio posto Moro che non è stato al suo posto ha fatto la fine che ha fatto Cossiga ha saputo stare al suo posto ma con intelligenza Andreotti è stato un po' al suo posto un po' no e infatti ha pagato con dieci anni di processi per mafia non parliamo poi di quelli che sono stati eliminati lungo le vie della storia capito del potere è una cosa seria cioè io al limite dico quelli che mi stanno ascoltando del mondo che ci odia che io sto facendo un servizio a loro cioè non uccidetemi domani con un incidente perché sto dicendo che la vostra potenza in questo momento per il momento è invalicabile quindi tutto sommato sto facendo un servizio al potere che ci domanda sì vabbè e poi voglio dire io lo faccio lo faccio in modo un po' consigliano capito con il gusto del paradosso ecco poi voglio dire sì poi voglio dire che in realtà è vero che l'Aula Universitaria ha il suo fascino e lo abbiamo subito tutti subito anche apprezzato se vogliamo però anche e soprattutto un mezzo di comunicazione di massa più largo raggiunge molte più persone quindi io credo che faccio un servizio l'ultima volta per risolvere l'ascoltatore l'ultima volta che Togliatti fece un viaggio in Russia ai tempi della morte di Stalin quando passò la frontiera dell'Ungheria per arrivare in Slovenia credo che lo raccontasse Neil Dejotti tirò un sospiro di sollievo perché aveva paura che avrebbe fatto una brutta fine capite perché era un mondo molto duro quello come è molto duro il nostro perché il potere ragazzi è una cosa seria siamo ben lontani ancora proprio da un mondo civile armonizzato siamo lontani è un'illusione che avevamo visto solamente nelle favole il potere logora chi non ce l'ha come diceva Andreotti